Ed eccoci, vi ho promesso ieri che avrei reso quotidiana questo appuntamento e lo stiamo facendo. Vediamo intanto i dati relativamente all'Italia, vedete aggiornati alle ore 18, c'è un calo dei ricoverati con sintomi 0,9% rispetto a ieri, 2,7% di meno in terapia intensiva, l'isolamento domiciliare è cresciuto per una cura migliore in questo caso. Totalmente positivi è cresciuto dello 0,9%, quindi di pochissimo, è cresciuto del 6,8% il numero dei dimessi, è cresciuto purtroppo ancora del 3,7% il numero di decessi e i casi totali sono cresciuti del 2,3%. Questa è la grafica dove vediamo le diverse cose, il rosso i contagiati, vedete la curva che sta scendendo per fortuna, gli attualmente positivi che come vedete anche in questo caso sono scesi a 880, i dimessi e i guariti che stanno crescendo per contro e i deceduti purtroppo in un dato che è ancora costante anche se è in leggero calo. Ecco la Sardegna, è interessantissima la riga nera, seguiamola, perché la riga nera è il rapporto nuovi contagi tamponi giornalieri. Oggi i tamponi fatti per la precisione in Sardegna, vediamo se è arrivato poco fa, i tamponi infatti sono 12, 1 è positivo, i tamponi giornalieri sono 159, quindi su 12 tamponi fatti 1 è positivo e questo significa che praticamente la percentuale sale perché su uno che viene fatto è l'8,2%. Quando la percentuale più bassa, la più bassa in assoluto è stata questa, era perché su 51 tamponi, stiamo parlando però del 13 di marzo 2020, 1 solo era positivo. Quindi oggi sappiamo che 1 è positivo su 12 tamponi, quindi la differenza rispetto a ieri è relativa al numero di tamponi fatti, nel senso che ieri i tamponi erano 24, oggi erano 12 positivi, 1 ieri e 1 oggi. Non è che il numero è cresciuto e 1 era anche l'altro ieri perché erano 11 tamponi e 1 era ancora l'altro giorno, cioè nel senso che il numero di 1 positivo, come vedete, è sempre 1 da almeno 5 giorni, anzi da 6 giorni, anzi da 7 giorni, anzi da 8 giorni. Praticamente l'unica cosa che è cambiata è il fatto che i tamponi siano diversi, il numero di tamponi cambia, quindi le percentuali qui non sono da vedere come il grafico ci propone, come se ci fosse un calo e poi un aumento. Il calo e l'aumento non è determinato dal numero di casi che vengono rilevati, ma il numero di casi rilevati è costante, l'unica cosa che cambia, l'unica cosa che cambia invece è il numero di tamponi che sono stati fatti. Andiamo a vedere anche gli altri dati per la Sardegna, chiaramente questi non possono essere dati in crescita perché sono ricoverati con sintomi e chiaramente salgono, sono sempre in linea. Diffusione del contagio, noi siamo sempre nel quinto ultimo posto, ma tenete conto che questo quinto ultimo posto ha dei segreti. Perché ha dei segreti? Perché la Valle d'Aosta che ha 835 casi è decisamente meno abitata dalla Sardegna. La stessa Calabria è un dato che dobbiamo considerare quasi pari alla Sardegna perché in Sardegna abbiamo un numero di abitanti inferiore, quindi o meglio, inferiore rispetto alla Valle d'Aosta e forse anche rispetto alle altre regioni. Adesso non so esattamente in Calabria il numero degli abitanti se sono inferiori alla Sardegna o meno, credo che siano superiori, quindi la Calabria è forse l'unica tra queste ma anche a base di Ceremonise che hanno una percentuale minore rispetto alla popolazione. Vediamo se andando a segnare dentro il dato della Sardegna possiamo riuscire a averlo. Il dato totale dei contagiati è 624 e questi sono i numeri che chiaramente finora si sono associati. Vediamo se questo è stato aggiornato, era il dato che abbiamo visto ieri, vediamo un po', mi pare di sì, variazione e incidenza nell'ultimo giorno. Allora, area metropolitana di Cagliari, no è del 6, sono ancora i dati di ieri, questo non è stato ancora aggiornato perché qua è sempre del 6, ancora i dati relativi alle diverse province non sono state aggiornate. Vi dico che già avevo visto dei dati che ci hanno proposto precedentemente dove il numero era variato perché c'erano due casi, mi pare di ricordare, nel sud Sardegna e ieri erano tre. Scusate, due casi nell'area metropolitana di Cagliari e ieri erano zero. Zero casi nel sud Sardegna, quindi tra sud Sardegna e area metropolitana c'è un caso in meno. Un caso in meno anche ad Oristano che quest'oggi erano due, zero invece i casi quest'oggi a Nuoro, mentre dai dati che abbiamo visto che non sono questi, ripeto, sono 10 oggi i casi a Sassari, rispetto a ieri un contagiato in più. Quindi Sassari continua a mantenere un dato crescente del numero dei contagiati rispetto anche a ieri, ieri 9, oggi 10, mentre di uno in meno ad Oristano e di uno in meno nel complesso tra il sud Sardegna e l'area metropolitana di Cagliari. Qui vediamo invece l'incidenza nelle altre parti del mondo e anche la posizione in percentuale dell'Italia rispetto ad altri paesi, in questo caso l'Italia, no, questa è la media generale, guardate la media generale, il tasso di letalità, il tasso di letalità regione per regione, cioè cos'è? La percentualità dei deciduti rispetto al totale dei contagiati. In questo caso la Sardegna è terz'ultima, cioè rispetto al numero dei contagiati la Sardegna ha avuto un tasso di letalità decisamente inferiore rispetto ad altre regioni. Noi siamo lontanissimi dalla realtà della Lombardia, dalla realtà delle Marche, dalla realtà della Liguria, cioè siamo lontanissimi anche dalla media nazionale che è di 12,5%, cioè i deceduti rispetto al numero dei contagi è decisamente inferiore, due volte e mezzo in meno rispetto alle altre regioni. Vi faccio vedere un'ultima cosa, se riesco a passarci velocemente, forse ci riusciamo, eccolo qua, praticamente una cartina che è stata pubblicata stamattina e quindi con i numeri che non sono aggiornati che ci fa vedere tutte le parti, allora la parte rossa è dove ci sono stati oltre 200 contagi. L'unica zona rossa è quella di Sassari, quella appena più tenue tra 100 e 99 è questa che non c'è in nessuna altra zona della Sardegna. Quindi la zona rossa rossa è solamente questa zona che corrisponde prestapoco all'Ogudoro, per intenderci. La zona più tenue, eccola qua, è questa che riguarda la zona di Olbia, quest'altra zona sotto Olbia, ancora una zona qui all'interno che non so esattamente a cosa corrisponda. Forse siamo tra 20 e 49 casi nella zona di Ristano e vedete che praticamente tutto il resto è bianco, la maggior parte è bianco, cioè tutte le zone che vedete bianche o grigie sono le zone dei comuni, perché questa è una divisione per comuni, dove ci sono stati, ma mettiamo anche questa, mettiamo tutte queste quattro, praticamente io sotto i dieci casi, sotto i dieci casi ci sono uno, due, tre, stiamo parlando del 93,90%, del 96%, cioè nel 96% del territorio sardo praticamente la contaminazione è inferiore, dentro i comuni è inferiore alle dieci unità. Ecco perché non è pensabile pensare, scusate il bisticcio, che il territorio sardo venga trattato allo stesso modo di altri territori, perché la densità di malati in tutto questo territorio che vedete, dove ci sono 277 comuni con caso zero, vedete 277 comuni con caso zero, se noi sommiamo i 77 comuni con caso 1 a 4 più gli 8 comuni da 5 a 9, siamo vicini ai 300 comuni e comunque sia il 96% del territorio che non ha avuto contagi o lo ha avuti inferiori a 10, certamente più controllabile di qualsiasi altra situazione, più verificabile e con le condizioni per poter evitare una chiusura ad oltranza che vada, come qualcuno dice, fino a fine maggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.